Alle vecchie segherie di Bisceglie è stato ospite Walter Veltroni per presentare Buon Vino tra amore e morte. Marilena Farinola. Un giallo tra reale e immaginario che vuole far riflettere il lettore su un caso spinoso accaduto nel clima avvelenato dagli intrighi della Roma del 1944. Tornano le indagini del commissario Buon Vino, personaggio nato dalla penna di Walter Veltroni. L'autore è stato ospite alle vecchie segherie Mastrododaro di Bisceglie per presentare il quarto libro della fortunata saga dei casi del commissario romano. È il quarto romanzo di questa serie ambientata a Villa Borghese a Roma in cui c'è questo commissario che è un personaggio mite, un po' solitario però con molto senso e l'umorismo è soprattutto animato dal dubbio e che cerca di risolvere le cose non con la pistola ma con il cervello e che insieme a sette agenti un po' strani riesce a venire a capo di una serie di cose che sono accadute, sono accadute nella mia fantasia. Invece in questo ultimo romanzo c'è anche una cosa che è accaduta sul serio, cioè la fucilazione di un uomo nel 1944 proprio a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese, per cui Buon Vino riuscirà a sbrogliare anche questa. Una storia che si presta per stessa missione dell'autore a una riflessione di carattere civile, proprio perché legata al tema della memoria e della nostalgia. Una saga di gialli, quella scritta da Walter Veltroni, che viaggia tra realtà e fantasia, che porta il lettore in un viaggio nella memoria ricca di dettagli e colpi di scena. Il lettore del giallo è un lettore che si diverte, si diverte anche a gareggiare con lo scrittore, a cercare di capire prima della fine del libro chi è stato l'assassino.